Musica Dopo aver pettinato le mie sopracciglia prelevo un pezzo di plastilina con l'aiuto di una spatolina e la vado a lavorare sulle sopracciglia Musica Dopodiché prendo spugnetta e cipria e ne estendo un bello strato per assicurarmi che sia pissato a dovere Musica Dalla palette dei correttori di Wicon prelevo il colore aranciato e lo picchietto su tutta la sopracciglia Musica Sempre dalla palette dei correttori prelevo il colore che più si avvicina al mio incarnato Musica Successivamente tampono con uno strato di cipria per fissarlo nuovamente Musica Adesso prendo pochissimo fondotinta della mia colorazione e lo vado a stendere aiutandomi con spugnetta e pennello Musica Come ultimissimo passaggio rivado a tamponare tutto con una cipria Musica 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 Grazie.